Aspettiamo che inizia, Dio i benedica, ok, vediamo come si vede, amen, ok cari amici, allora, amen, aspettiamo che inizia, ok, allora c'è un rumore di sottofondo, ok, perché c'è questo rumore di sottofondo, non si capisce, aspettate, ah boh, allora c'è un rumore di sottofondo, non so perché, vabbè, allora salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, siamo felici di tornare nuovamente con voi in questo video altamente ineprovvisato, benissimo, allora cari amici, video, come dire, video, video che veramente ci voleva, diciamo che poco fa ho ricevuto, diciamo, l'ennesimo consiglio e sinceramente questa volta ho deciso di accettarlo, benissimo, già, insomma, ci sono diversi che seguono questo piccolo canale, che sono, insomma, persone, diciamo, di una certa età, sia materialmente parlando e sia anche spiritualmente parlando, ci sono persone che hanno 20, 25, anche 30 anni di fede più di me, quindi io, confronto a loro, sono un pivellino che l'unica cosa che posso fare è imparare, ora noi dobbiamo sempre, come dire, stare, sempre valutare bene tutto quanto, ma effettivamente sì, effettivamente questo consiglio che mi hanno dato poco fa, sinceramente ho deciso di accettarlo. Allora, il discorso è questo, io non ho tanta esperienza, diciamo, per quanto riguarda vivere il web, vivere l'internet e la predicazione dell'Evangelo, eccetera, 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 diciamo, sono abbastanza giovane, perché, insomma, io sono circa, no, circa, sono nettamente nove anni, nove anni che, praticamente, mi trovo qui nelle web, e sono nove anni, insomma, che sto predicando l'Evangelo di Gesù Cristo, diciamo, come ministerio, diciamo così, perché io ho cominciato a 39 anni, e, tra brevissimo, diciamo, è il mio compleanno, quindi farò il quarantottesimo anno di vita. Benissimo, quindi io ho nove anni, diciamo, di tutto questo, quindi sono, insomma, abbastanza giovane, anche se ho 24 anni di fede, che sono nato di nuovo, ma, insomma, sono, come dire, per quanto riguarda il ministerio, la predicazione dell'Evangelo, sono molto giovane, e ho fatto tanti errori, tanti errori, qualche cosa l'ho fatta bene, dai, qualche cosa l'ho fatta bene. Gloria a Dio. E sto qui sulla strada maestra, come dice Isaia 35, no, la via maestra. Gloria a Dio. Sto qui, sto cercando, insomma, di fare del mio meglio. Benissimo. In questi anni ho visto diverse cose, non voglio dire tante, ho imparato molte cose, ho imparato molte cose, alcune cose l'ho imparate senza sbagliare, altre, molte altre invece l'ho imparate, ahimè, sbagliando. Benissimo. Ho ricevuto dei consigli, molti li ho presi in consegna, altri li ho rifiutati, alcuni consigli che ho rifiutato, ho fatto malissimo, e poi ne ho dovuto pagare le conseguenze. Altri consigli che ho rifiutato, ho fatto benissimo, e grazie a Dio per averli rifiutati. Dipende, dipende. Eccoci qua. Benissimo. Tra le tante cose che ho potuto vedere, è che ci sono tante situazioni a tutti noi nella vita che ci passano sotto, sotto al naso, tante, tantissime. E come si dice, i cervelli non si cambiano, siano questi giusti, siano questi sbagliati, non c'è niente da fare, gloria a Dio, non si cambiano. Questo non significa che uno deve stare sempre zitto, ma questo non significa neanche che uno deve stare sempre a parlare. Dipende. Ogni situazione è a sé. E il tempo in cui viviamo certamente non ci aiuta, perché ci troviamo a un passo del rapimento della Chiesa, l'ultima ora, dove l'ora più buia ormai è sopraggiunta, e, ahimè, la Babilonia è arrivata a un punto tale che non ce ne fu mai una pari e mai più ve ne sarà un'altra simile. Così è scritto nell'Evangelo di Matteo, nel capitolo 24, riguarda appunto a quel giorno che non ce ne sarà uno, uno come quello. Benedetto è il santo nome del Signore. Benissimo. Poco tempo fa, diciamo, è iniziato un gentile riscontro, no, fra me, insomma, e qualcun altro, per quanto riguarda il posizionamento del rapimento della Chiesa, la sua collocazione. Se questo va collocato alla fine della grande tribolazione, ovvero va collocato e sarà quello che poi farà nascere, diciamo, darà inizio alla grande tribolazione, un argomento, un oggetto già trattato dal sottoscritto, ormai da, or sono molti anni, mi è stato detto di tutto, di più, non da parte, diciamo, della persona, ma in generale sono stato accusato di tutto, di aver appreso dai libri, pensate che, e poi sarebbe l'esatto opposto, però, d'altronde, la gente non conosce la mia vita e pretende di mettermi in bocca parole che io non ho mai detto, ovvero situazioni che io non ho mai vissuto, e così via, discorrendo. Ma il consiglio che mi è stato dato, in generale, da persone che hanno molta più esperienza di me, lascia perdere, lascia perdere. Perché? Mi sono state dette tante cose. Effettivamente, io, sinceramente, penso che sia la cosa migliore da parte mia. Perché? Perché, per esempio, vi faccio un esempio. Il Signore dice, riguardo quell'ora e quel giorno, nessuno sa l'ora. Nessuno sa il giorno. È così chiara la scrittura. Dall'altra parte mi si dice, no, non è vero. Sono loro che portano congetture. Va bene. Poi dico, il millennio durerà un giorno. Quando finirà il millennio, si entrerà in un altro periodo, che è il secondo giorno. Anche se fosse un solo minuto dopo, finito il millennio, si entra nel secondo millennio. Un giorno dura 24 ore. Finite le 24 ore, anche per un minuto, si entra nel secondo giorno. Quindi, se ci sarà un periodo di tempo che Satana sarà sciolto, dice, no, quelli sono pochi anni. Quello fa parte del primo giorno, del millennio. Ma se mille anni sono come un giorno, finito il millennio, si entra nel secondo giorno. No, non è così. Allora, quindi l'ultimo giorno, che parla la scrittura, l'ultimo giorno, che è il giorno del rapimento della Chiesa, eh no, quello fa, l'ultimo giorno, arriva fino al, al giudizio finale. Ma come fa a essere l'ultimo giorno? se poi finiscono i mille anni e c'è un altro periodo che nessuno sa quanto durerà, ma anche se fosse un solo anno o due o tre anni, si entra nel secondo giorno. No, non è così. Oppure, ah, voi non sapete da dove viene questa dottrina, quella del rapimento pre-apocalisse. Se voi studiate la vita di questi qua che l'hanno inventata, dicono loro, poi vedremo chi sono stati questi. Però, quando si tratta invece di esaminare la vita dei padri della Chiesa, che sono stati i peggiori apostati e che hanno portato il rapimento post-tribolazione e lì invece tutti zitti. Eccetera, eccetera, eccetera. Io sinceramente avevo detto che avrei visionato tutti quanti i video perché ne ho visti solo tre. Ci ho ripensato, si può ripensare, sì, non intendo più proseguire e mi ritiro. E a tutti quelli che dite che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Io vi dico, una volta vi dicevo passate una buona grande tribolazione. Adesso non ve lo dico più, non voglio dirle più queste cose. Neanche vi rispondo. E così come non risponderò più a nessuno, man mano io sto cercando di ritirarmi sempre di più. perché qui si entra nel mio canale fratelli, sorelle, cari fratelli, care sorelle, devi fare questo, devi fare quest'altro, devi denunciare quello, devi denunciare quell'altro, perché non fai questo, perché non fai quest'altro. allora, con tutto rispetto parlando, intanto questo canale, io credo che sia del Signore, chi non lo crede continui a non crederlo. Ma una cosa è certa, nel mio canale le decisioni le prendo io. Io non mi sono mai permesso, in nove anni, io ho fatto tanti errori, ma non mi sono mai permesso di entrare nel canale di una persona, di un fratello, di una sorella, dicendo devi fare questo e devi fare quest'altro. Quando ho dato qualche consiglio a qualcuno, l'ho dato in occasioni circoscritte una volta, due volte e poi basta. Non è mai stata una cosa continua, una persecuzione. Io non cambio la mente a nessuno, nessuno cambia la mente a me. Lo Spirito Santo è Dio, è la terza persona della Trinità, Egli è potente. Io so in chi ho creduto, so di che Spirito sono stato battezzato e so anche quello che i miei occhi hanno visto due volte e so quello che c'è scritto per la grazia di Dio e per la rivelazione dello Spirito Santo. Avevo detto avrei visto tutti i video, sinceramente ci ho ripensato, non li vedrò, non per partito preso, il Signore sa che non mento, ma semplicemente perché non sono interessato. Per quanto riguarda voi post-tribolazionisti che ci reputate degli apostati, Dio vi benedica, continuate a reputarci tali. Una cortesia vi chiedo, visto che noi siamo degli apostati, non venite nei nostri canali, io non verrò più nei vostri canali, state tranquilli, vi continuo a reputare amici e fratelli, ma state tranquilli che non verrò più, non vi verrò più a rompere le scatole. È sbagliato? È il mio errore. Io continuerò per la strada che già avevo deciso di prendere quando decisi di basta adesso con tutti questi apostati, voglio prendere una certa strada, non che io non debba denunciare il male, certamente il male si denuncia, si continua a denunciare anche se in maniera diversa. Mi stanno arrivando diverse mail molto intelligenti, me ne è arrivata un'altra veramente molto intelligente, dove mi si fa una domanda, una cosa che io non avevo deciso di non affrontare questo argomento, invece mi è arrivata questa mail e tutto sommato mi ha spronato a farlo, quindi voglio rispondere e poi voglio riprendere appunto l'escatologia, non è detto che non parlerò più del rapimento della Chiesa, ma lo farò come un qualcosa di personale dove andrò a trattare determinati oggetti, non per rispondere a tizio, a caio o in virtù, anche perché sinceramente parlando io più passa il tempo e più non ascolto nessuno, vedo molti video, sì, ma sono video che spesso, quasi sempre non hanno nulla a che vedere con la fede, e vi spiegherò che genere di video io guardo, io guardo video di politica internazionale, di geopolitica internazionale dove parlano degli esperti e ci fanno capire la situazione geopolitica mondiale, i disastri politicamente parlando mondiale, la situazione bellica mondiale, perché io poi vado a esaminare tutte queste notizie alla luce delle profezie della parola di Dio, questo guardo, questo e anche molti altri video che mi interessano, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi più che altro guardo dei mass media internazionali, sia pro-Israele, sia anti-Israele, perché io seguo tutte e due le campane, per rendermi conto, sia da... perché la verità sta sempre in mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mi informo, sono molte le cose, però io ho da qualche anno a questa parte, ho sempre più scoperto la grande ricchezza che c'è nel miglior dizionario biblico, commentario biblico al mondo, che è la Bibbia stessa. Quindi io dal canto mio mi ritiro e ringrazio tutti quelli che hanno voluto ascoltare, non sto dicendo che sia corretto quello che io sto facendo, perché non mi interessa che sia corretto. Una cosa è certa, per queste cose non si va all'inferno e io non è che sto peccando con questo. Quindi chi non è d'accordo che Dio ti benedica, chi è d'accordo che Dio ti benedica e ciascuno faccia quello che reputa giusto, io dovrò rendere conto a Dio del mio operato, di quello che insegno, di quello che non insegno, non ascolterò più, diciamo, fai questo video, decido io i video che si fanno, i commenti, come già detto, più di un anno fa resteranno chiusi, come sempre, giusto, salvo dove si va a fare apologetica. Allora, fare apologetica bisogna aprire i commenti perché sennò sei un bigliacco. Là sono costretto ad aprirli. Dove si fa apologetica o si chiama qualcuno un causa, non puoi chiudere i commenti. Ecco, l'unica eccezione che io ho fatto è con il mondo ufologico, ma quella è un'eccezione e l'ho spiegata al perché. Il resto, trovate sempre i commenti aperti. Del resto, io già l'ho detto un anno fa e siccome io quello che dico lo faccio, non tutti sono abituati e ci sono alcuni che ci sono rimasti anche male, ma io non ci posso far nulla. Bene, quindi io mi ritiro su questo argomento e no, non vedrò altri video anche se me li dedicheranno, non mi interessa, ecco perché non lo faccio, non è per partito preso, quindi questa è la mia posizione. Niente, ve lo volevo dire. A chi sta bene, Amen, a chi non sta bene, ci mancherebbe Dio, Dio vi benedica. Bene, questa è la mia posizione. Qui non se fa mai giorno, non se ne esce fuori e benissimo. Voglio dire, io credo che lo Spirito Santo è potente, credo che esiste, credo che c'è molta lettura della parola di Dio, ma poca preghiera, si passa poco tempo alla presenza del Signore e pochi stanno una o due ore al giorno alla presenza del Signore a lodarlo con la voce udibile, a parlare lingue. Pochi lo fanno, molto pochi e anche io qui devo migliorare. e quando manca questo manca la base, manca il fondamento, così è cresciuta la Chiesa, oggi questo non c'è più. Me, invece di stare tre ore a leggere la parola di Dio e cinque minuti a pregare, si dovrebbe fare al contrario, senza annullare il fatto che si potrebbe fare tutte e due, molto. Per chi ha ricevuto, chi ha ricevuto, di studiare la parola di Dio, perché non tutti hanno ricevuto di studiare la parola di Dio, di insegnare la parola di Dio. Tutti abbiamo ricevuto di leggere la parola di Dio, di credere alla parola di Dio, ma studiarla è un'altra cosa, insegnarla è un'altra cosa, e non tutti hanno ricevuto questo. questo è biblico, questo è quello che il presente canale insegna. Chi accetta questo bene, chi non lo accetta ci mancherebbe. Ringrazio tutti quei anziani nella fede che hanno 20-30 anni di fede più di me e che mi hanno dato dei consigli, sia nel web che nella vita reale, pratica. questo è quanto. Niente, vi volevo dire questo, io sono Alessio Evangelisti, Dio vi benedica, se il Signore vorrà, farò un video, non so quando, non so se oggi, domani o quando sarà, per rispondere a un fratello che mi ha scritto, mi ha fatto una domanda molto intelligente. Bene, grazie, Dio vi benedica. Shalom. Grazie. 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 Grazie.